Ormai lo si era capito da tempo che sarà veramente difficile far calcio a Marsala per come si deve, per come meritano i tifosi, la storia, il blasone e tutto. Sarà difficile perché ormai le condizioni sono cambiate, le condizioni economiche, le condizioni sociali, ma soprattutto la cultura di far calcio per come si deve attraverso una società che deve muoversi come se fosse una vera e propria azienda. C'è tanta improvvisazione, da due anni si parla sempre di questo titolo del Marsala Onorio di Vincenzo Onorio che ha cambiato denominazione sociale in FC Marsala ma non basta, si è persa la categoria dell'eccellenza, non si sa se è stato prodotto ricorso o meno per provare a scardinare così la decisione della federazione di punire la società per non aver concluso il campionato juniors e quindi l'esclusione dalla griglia delle primissime che invece hanno avuto accesso al campionato superiore, si pagano gli errori, si paga l'improvvisazione, si paga anche una mentalità sbagliata perché il calcio è uno sport che va fatto seriamente, altrimenti è meglio lasciar perdere. Ultime notizie che arrivano, Onorio potrebbe lasciare la presidenza e la società nelle mani di Enzo Domingo ma sono per adesso soltanto voci che arrivano che non trovano un riscontro ufficiale, il dato oggettivo è che a breve ci sarà la Coppa Italia di promozione contro il Fulgatore, non c'è una squadra, non è iniziata la preparazione, non si sa chi è l'allenatore, quindi tutte condizioni negative che non fanno pensare ad un futuro rosio. Quindi ricapitoliamo, alla tifoseria non interessa tanto la categoria quanto la programmazione quanto una società solida.